Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto videocamere di sorveglianza IP Telecamera 1080p. Modello, IPCC B22 Bullomeria Processore, HI3516C Sensore, aptina 1.5 2.0 megapixel CMOS e sensor lente. 2.8 12 mm lente varifocale ear-led. 42 ear-led, distanza di ear 10-40 m di night, ear-cut minuti. Illuminazione. 0,5 lux. 0 lux con earmax SN rapporto. 50 decibel videocompression, H264 immagine, flusso principale. 1920x1080 125 fps, flusso sub. 640x360 125 fps, 320x181 25 fps bitrate. 128.8, 1, 9, 2k bps, supporta CBR-VBR immagine di controllo, tonalità, saturazione, luminosità, contrasto auto-image controllo, A e, A WB audio compressione, G. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.